Il nuovo studio è una proposta ASUS per la serie gaming, il G7, una macchina davvero avanzata e approfittamente progettata, avendo in mente l'esigenza dei gamer più accaniti e più esigenti. Il design esternamente ricorda molto la forma di uno stealth, di famosi caccia da combattimento invisibile. È stato ridisegnato anche per quanto riguarda l'impianto di dissipazione. Ci sono due grosse uscite direttamente imposte sulla parte posteriore per allontanare il più possibile dal giocatore ogni fonte di rumore e la produzione di calore. Ridisegnato anche nell'impiego con materiali decisamente innovativi, materiali tipo soft touch e uno stile che non lascia nulla ai fronzoli e ai dettagli meno rilevati, ma con la massima attenzione appunto per la sicurezza di gioco. La tastiera con tasti retroilluminati è inclinata di 5 gradi per ottenere il massimo comfort di utilizzo, di digitazione piuttosto che di impiego nelle parti di gioco più accanite. Il display è un generoso display da 17.3 pollici, la tecnologia è impiegata e quanto di meglio ho per questo momento il mercato per garantire dell'esperienza di gioco decisamente di livello superiore.